Oggi in provincia di Bergamo, un'altra giornata di visita alle aziende, dal settore della plastica, al settore dell'edilizia, al settore dell'idraulico-meccanica, con incontri con imprenditori e lavoratori utili per presentare gli strumenti che Regione Lombardia fa a supporto delle aziende e degli ecosistemi settoriali all'interno della nostra regione, ma è importante anche per ascoltare la loro voce, le loro esigenze, le loro criticità e le loro proposte, per cui una giornata assolutamente positiva.